Allora, finalmente si comincia, inizia il campionato, le sensazioni che ho è che al di là di qualche problemino fisico che abbiamo avuto con qualche giocatore, la squadra ci arriva pronta, ci arriva con voglia, con entusiasmo, con quell'intenzione di voler fare le cose per bene sin dalla prima gara, sin dai primi minuti, su un campo ostico, contro un avversario dove l'anno scorso abbiamo avuto delle difficoltà, dove, ricordiamo benissimo, ha fatto probabilmente la prestazione più brutta e quindi l'intenzione è quella di ripartire, di cominciare questo campionato con quello spirito giusto, quello spirito che poi ci porterà ad incominciare il campionato nella maniera giusta. Di Tribuzzi sapete già che ne avrà, credo, per qualcosa più di un mese, mi auguro chiaramente di poter accorciare i tempi di recupero. Per quanto riguarda, ho dei dubbi ancora da sciogliere, riguardano in mezzo al campo e dietro, dove ci sono delle situazioni a livello di condizione fisica non eccezionali, che sono Toscano e Benedetti, perché Riggione sta bene, riguarda Benedetti e devo valutare la condizione fisica, perché il ragazzo secondo me ha fatto molto bene nella partita contro il Ponte d'Era, però non giocava da tantissimo tempo e ha avuto un po' di difficoltà nel recuperare la fatica. Motivo per cui mi mantengo ancora all'allenamento di oggi per poter poi fare delle scelte finali. Allora vi dico che non c'è Tribuzzi e gioca a San Nipoli. Anche così. Va bene. No, così togliamo qualsiasi dubbio. Nei cambiamenti fatti, in primis quello dell'allenatore, cambia qualcosa anche a livello tattico. Nel sistema di gioco probabilmente no, perché comunque il sistema di base rimane il 4-2-3-1, un 4-4-2. La sensazione che prevale è quella dell'amore che ho per questo lavoro e nel parlare di amore che ho per questo lavoro mi riferisco soprattutto anche alla passione che riscontro in questa città, in questa tifoseria, dove ieri, nell'avere questo incontro cordiale, dove loro hanno voluto trasmettere alla proprietà, alla squadra, ma soprattutto ai giocatori, la propria passione e l'amore che hanno per questa squadra. Ed è un qualcosa che secondo me è servito per rinfrescare a quelli che come me c'erano già l'anno scorso dove ci si trova, quanto amore c'è dietro questa maglia e ai nuovi per capire effettivamente dove si è arrivati.